Buongiorno a moderazione. Ok, ciao, buona domenica per domani, saluti e famiglia. Siamo andati a cercare molto adesso, l'altro è percone, capito? Poi ho due cuccioli, ho due canucci che sono due giorni, piccoli, allora vado là, guardo come stanno, gli faccio un po' di coccole, e vabbè. Vai, stanno fuori, ne abituati dentro casa però, eh? No, fuori, stanno fuori, dentro casa mi farebbero un casino. Buongiorno Giuliana, buongiorno e buon pranzo. Ciao agli a, e me chiamoci se è Giuliana, ragazza tua, eh, ciao. Ciao! Ciao!